Eleonora Pedron è stata invitata dalla Jalapas Band per commentare Belgio-Italia a Rai di Re Europei e la trasmissione su Rai 4. Lo scetticismo verso gli azzurri di Antonio Conte che contro il Belgio hanno vinto 2-0 era parecchio fino a ieri sera, poi i gol di Giaccherini e Pelle hanno messo a tacere i detrattori. La punizione per la bella showgirl è stata umiliante. Eleonora infatti è stata costretta a stirare qualche camicia in diretta, ma i commenti ricevuti sulle performance da casalinga disperata non sono stati del tutto positivi. Dita la Pedron che le camicie si iniziano a stirare dalle mani che ha cingottato qualcuno, qualcun altro ha detto per me la Pedron non ha mai stirato una camicia in vita sua. C'è da dire inoltre che Eleonora Pedron è stata bersagliata di tweet anche per la sua storia d'amore con Daniele Conte, il fratello del CT della Nazionale. I gialappi hanno cavalcato l'onda del gossip Skype mettendo la loro ospite più volte in imbarazzo e lo stesso hanno fatto gli utenti su Twitter. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.